Gentili telespettatori, buona giornata. La Costituzione lo prevede. Arriva la lettera sulla scrivania di Mario Draghi, il Premier. Che cos'è questa lettera? Una lettera indirizzata da Giovanna Maria Flick, presidente emerito della consulta, con l'avvallo di un gruppo di costituzionalisti. L'obbligo vaccinale è costituzionale e questa è l'opinione del presidente della consulta. Non ci sarebbe insomma alcuna contraddizione perché la Costituzione lo prevede. Insieme a una ventina di giuristi, Flick ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi in merito a una eventuale legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole. Un argomento tirato in ballo in vista della ripresa delle elezioni a settembre. Lo Stato può introdurlo legittimamente alla luce dell'articolo 16 e 32 della Costituzione. Si legge nella lettera. Ma adesso andiamo a vedere che cosa dicono questi articoli. L'articolo 32 dice così La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi dice che il trattamento sanitario obbligatorio non può essere fatto se non con una legge. Cioè per fare un trattamento sanitario obbligatorio agli italiani deve essere una disposizione di legge. Cioè deve essere una legge. E l'articolo 16 che cosa dice? Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Quindi ogni cittadino può circolare liberamente, soggiornare dove vuole, in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo delle limitazioni che la legge stabilisce. Pertanto anche qua viene scritto che non si può limitare la circolazione se non c'è una legge che lo fa. Non si può fare un trattamento sanitario obbligatorio sempre che non ci sia una legge che dica il contrario. E così i costituzionalisti scrivono al Presidente del Consiglio che è costituzionale obbligare la vaccinazione eventualmente e obbligare il Green Pass, l'obbligo del Green Pass, ad esempio, per entrare in alcuni luoghi. All'interno della maggioranza intanto il dibattito è acceso. Da una parte c'è il PD che vuole l'obbligo per i professori, dall'altra parte c'è la Lega che fa muro. Ci troveremo questa settimana col Consiglio dei Ministri. La decisione sull'obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall'intero collegio, ha detto il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'ipotesi di imporre il vaccino ai docenti resta solo teorica per adesso, anche se in molti sperano possa concretizzarsi il prima possibile per contrastare il rischio di nuove chiusure a partire dalla scuola. Parlare di obbligo per studenti di 13 o 14 anni e per gli insegnanti, dice Salvini, non fa parte del mio modo di pensare un paese libero. Parole che non sono piaciute al Ministro della Salute Roberto Speranza che dice che nel dibattito non sono ammissibili ambiguità da parte di nessuna forza politica. La frase di Speranza non ha molto senso. Ambiguità cosa vuol dire? Uno la può pensare in un modo, uno la può pensare in un altro. Il governo è un organo collegiale che decide. Insomma, il Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere in maniera collegiale, però l'indicazione del Premier è proprio quella di fare come dice lui. Dipende da quello che deciderà Draghi, non da quello che decideranno i ministri in Consiglio dei Ministri. Se Draghi dirà facciamo così, i ministri dovranno con i loro partiti adeguarsi, perché sennò Draghi dice lo faccio lo stesso e in Parlamento metto magari la fiducia, metto la questione di fiducia così nessuno propone delle modifiche, perché qualche partito dice beh vabbè io in Consiglio dei Ministri lo approvo ma poi in Parlamento vedranno, farò proposte di modifica. Invece poi c'è la possibilità per il Premier di far sì che non ci sia nessuna proposta di modifica mettendo la questione di fiducia. Voi sapete com'è la questione di fiducia? Arriva una legge e Draghi dice bene metto la questione di fiducia. Vuol dire che se la legge passa va bene, se la legge non passa cade il governo, obbligatoriamente, non è una possibilità, obbligatoriamente Draghi va a dare le dimissioni, metteranno Brunetta che è il ministro più anziano per arrivare fino all'elezione del capo dello Stato, questo succederebbe. I partiti e i politici non possono andare a casa almeno fino all'elezione del Presidente del Consiglio ma attenzione che dopo questa elezione si sciogliono le camere e si va alle elezioni. Pertanto questi politici che votano no con una questione di fiducia poi vanno comunque a casa anticipatamente, non si arriva a fine legislatura ma vanno a casa quasi un anno prima. Pertanto questo è uno spauracchio per i politici. Quando Draghi metterà la questione di fiducia i politici diranno beh voto in base ai miei principi e poi sono disoccupato un anno prima della scadenza oppure per convenienza dico sì a Draghi in modo che ho lo stipendio garantito almeno per un altro anno in più. Al 99,9999 periodico i politici andranno sull'ipotesi di votare quello che dice Draghi per mantenere lo stipendio. Voi sapete che lo stipendio è in cima alle priorità di una persona, senza quello non puoi fare tutte le altre cose, non le puoi fare senza lo stipendio, da pagare la luce, a mangiare, a utilizzare internet, a comprarti una macchina, a metterla bene, qualunque cosa. Pertanto è anche normale che i politici di fronte a ideali stipendio ovviamente con gli ideali non ci mangi e con lo stipendio forse sì. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video qui su Tele Italia tra una ventina di minuti, ricordatevi che c'è Tele Italia Seconda Rete e c'è anche in Facebook la pagina sempre Tele Italia. Arrivederci a tutti!